Benvenuti a Mercato Flash, la rubrica settimanale di Siderweb dedicata all'andamento del mercato dell'acciaio. Nell'ultima settimana è stato confermato il rallentamento del trend ribassista dei prezzi di arrottami in Italia. Attualmente la domanda e l'offerta appaiono in equilibrio, nonostante si attestino entrambe su bassi livelli. In particolare la richiesta risente di produzioni siderurgiche ancora ridotte. Nel comparto del tondo per cemento armato sono aumentati i prezzi dopo che la maggior parte dei produttori ha raccolto ordini nelle settimane precedenti, benché a prezzi più bassi. Passando ai prodotti piani, sembra che abbiano interrotto la discesa anche i prezzi dei COIS per due motivi. Il fatto che i fornitori da Paesi Terzi hanno sospeso le proprie offerte alla fine della scorsa settimana, lasciando intendere di voler aumentare i prezzi. E il fatto che la domanda sia finale sia apparente starebbe mostrando qualche segno di ripresa dopo oltre due mesi di acquisti pressoché inesistenti. Anche le quotazioni delle lamiere potrebbero essere vicine al capolinea secondo la maggior parte degli operatori, che hanno riferito di un calo di circa 60-70 euro la tonnellata nell'ultimo mese e mezzo. La svolta potrebbe essere vicina anche per i piani in acciaio inossidabile, in quanto i produttori europei hanno rallentato le produzioni per allinearle alla domanda. La manovra avrebbe bisogno però di qualche settimana per produrre effetti tangibili. Resta depresso intanto il mercato dei tubi inox, dove la richiesta è rimasta bassa nelle ultime settimane e i prezzi sono diminuiti anche sulla scia dei ribassi che hanno caratterizzato i prezzi dei COIS. Alcuni produttori, tuttavia, hanno provato a correggere al rialzo le quotazioni. Infine si segnalano una domanda debole ai prezzi in lenta discesa nel comparto dei tubi senza saldatura in acciaio al carbonio. A fronte della forte incertezza, sarebbe scarsa la richiesta di materiale import. Con Mercato Flash l'appuntamento è, come sempre, a lunedì prossimo. Grazie.